Felice ringraziamento, bambini! Aspetta a mangiare, Teo! Dobbiamo aspettare che arrivino Bex e Avery! Beh, io sono grata per voi tre, bambini! E per questa zuppa di zucca fatta in casa! Cacca! Ha un buon profumo, vero? E ora basterà soltanto aggiungere l'ingrediente segreto! Polvere piccante! Questa polvere piccante lo è per davvero! Quindi ce ne metteremo soltanto un pizzico! È perfetta! Chi vuole provarla? Ecco che arriva il trenino! Edè! Mi pare che tu riesca a reggerlo bene, il cibo piccante! Ops! Avery e Bex saranno qui a momenti! Devo mettere il resto a tavola! Oh, purè di patate! Oh, purè di patate! Oh, purè di patate! Oh, purè! C'era un buon profumo! mi sembrate accaldati volete mica che vi apra la finestra? bex e nevery arrivo subito felice ringraziamento sono felice che siate qui e non vedo l'ora di farvi assaggiare la mia zuppa è zucca quella che sento con l'aggiunta di un pizzichino piccolo piccolo piccino picciò di polvere piccante al peperoncino sembra buonissima posso assaggiare? non è vero? che succede? brucia brucia ma era soltanto un pizzico piccante 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 ne avete combinata una delle vostre? bambini? bambini? ecco qua gelato del ringraziamento per rinfrescarvi ehi Charlie non abbiamo avuto il ringraziamento che volevamo ma siamo davvero grati che tu ti prenda cura di noi? non è così bambini? anche io sono grata di voi possiamo continuare la cena del ringraziamento quando vi sentirete tutti meglio ma il peperoncino è decisamente bandito dal menù è vero? è vero! è vero! vai! chiù! ho detto! visto? non è così male! ahia! bello! vero? oh lulu è davvero carino sì hai ragione Charlie è davvero divertente forza voi due dobbiamo fare i bambini solo per un giorno e poi hanno vinto onestamente 3,2,1 via! 3,2,1 aggiungiamo oh ma come ci riesce? eh ahahah ahahah ah puoi oh sì mi piace da morire oh sì ferma lulu hai quasi quasi finito ho una gran fame super fame anche io è quella la cena? ehi teo era la mia cena che 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Finalmente un po' di relax! È davvero faticoso essere bambini! hai ragione ho voglia di andare a dormire su col morale è il momento dello shampoo no Teo non tutta quest'acqua sembra che anche essere adulti sia dura avete sonno bambini? chi di voi è pronto per una giornata con Vex? allora andiamo mi dispiace bambini sembra che dovremmo rimanere al chiuso questa volta a voi sta bene comunque vero? possiamo divertirci anche al chiuso potremmo fare nascondino nascondino è divertente e chi vince riceve un biscotto va bene quindi uno due tre quattro cinque no bambini è il vostro turno di nascondervi va bene riproviamoci questo è davvero un ottimo nascondiglio ma chi ci sta cercando? tutto ok riproviamo ancora teo non ci troverà mai teo? ehi non puoi mangiare i biscotti avanti teo ti divertirai di più giocando e chi vince riceve due biscotti nove dieci pronti o no sto arrivando dove potrebbero essere mai andati? ehi credo che ci siate prendendo la mano uscite ovunque voi siate ecco ti ma che? ti ho trovata lulù bravissimi tutti quanti ci meritiamo tutti un biscotto puoi venire fuori adesso teo teo? dove sei? charlie arriverà qui a momenti farai meglio uscire ora e se fosse disperso? dobbiamo trovarlo teo? 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 dove sei finito? oh no potrebbe essere ovunque oh teo? oh teo ecco ti qui pensavo che fossi sparito wow hai mangiato un sacco di biscotti ehi bambini vi siete divertiti con credo tocchi a me nascondermi dieci dieci otto sette sei cinque quattro tre due uno pronti o no? sto arrivando no teo no teo no teo aspetta non sappiamo dove conduca quella porta teo fermo aspettami ah ah eccoti questa cosa è? dovremmo oltrepassare la porta magari sono in pericolo hai ragione potrebbe essere così ok vado per prima guardate che posto è bellissimo ecco non promette bene non temete sono sicura siano nuovi amici eccoci qui avry teo oh grazie al cielo eravamo in pensiero quella porta segreta era una forza eh? già ma è sparita come ci arriviamo a casa? così oh ok ragazzi torniamo a casa aspetta guarda questo posto è come un paradiso del nascondino non possiamo sprecarlo dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno pronti o no sto arrivando oh eccoti 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 che spasso sì ma dov'è teo? mi sembra che si sia fatta l'ora di pranzo possiamo tornare un'altra volta a giocare bambini dovremmo nasconderlo da qualche parte wow 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 il dolcello scherzetto è stato davvero presto ehi non potete mangiarli tutti subito bambini dobbiamo dividerli equamente e magari tenerli qualcuno per noi ecco forza bambini voglio fare una foto di tutti voi vestiti per Halloween e ah 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 io è os Che succede, Teo? Ti fa male un pente? Poco, lasciami contare! Ma come ti aiuto se non mi lasci vedere? Magari è l'ora di un bel gioco! Felice Halloween! Dicevo, buona visita dentistica! Giochiamo tutti al dentista! Chi è pronto a farsi controllare i denti, eh? Bambini, se vi sedete in sala d'attesa prepareremo tutto come si deve! Avanti, dottor Becks! Woo woo woo! La, ehm, signorina Lulu può accomodarsi! Avanti! Ok, abbasserò la tua lingua con questo bastoncino, così poi do un'occhiata! Pronta? Non me la rendi facile! Bene, Lulu! Denti sani e forti! La signorina Tilly può accomodarsi! Avanti! Perfetti! Direi che li lavi due volte al giorno! Va bene! Teo può accomodarsi! Avanti! Ok, bello! Mi pare di capire che hai un brutto mal di denti! Ti spiace se do un'occhiata? Mmm, credo di aver capito! Sembra che tu abbia mangiato un po' troppe caramelle! Cosa? Ma se hai mangiato solo un lecca-lecca! Beh, la lingua è blu e c'è un pezzetto incastrato tra i denti! Proprio! Qui? Oh, sembra che tu ti sembra già meglio! Teo! Mangiare troppe caramelle può causare il mal di denti! Ma se ti lavi i denti come si deve, riuscirai a evitare di avere le carie! Non è così, Gordon? Gordon! Soltati così coraggiosi oggi dal dentista! Dei dolci per voi! Detto che hai già mangiato tutti quelle caracca, avrai un dolce diverso! Ok, facciamolo! Avremo micro-esagerato con le decorazioni? In fondo lo sanno tutti che la cosa più importante di Halloween sono le decorazioni spettrali! Noi invece, Bex, la cosa più importante di Halloween è decisamente il cibo a tema! Guarda queste merendine! Sono bellissime! Lulu, lasciane un po' per la festa! Deve essere qui da qualche parte! Lo so che era qui! Ma dove può essere? Bex! Abbraccio di gruppo! Grazie! Ne avevo proprio bisogno! Ma ve lo vorrete rimangiare questo abbraccio quando saprete che cosa ho fatto! E dai, Charlie! Che sarà di tanto grave? Già! Lo sai che ti vorremmo bene sempre e comunque! Ho perso i costumi di Halloween fatti su misura! Ho rovinato Halloween! Nessuno riuscirà a divertirsi ed è tutta colpa mia! Su via, Charlie! I costumi devono essere qui da qualche parte! Ah! Come era fatta la scatola? Era grande, marrone e quadrata! Quindi era una normalissima scatola, vero? Non è che proprio restringa il campo! Si sente già in colpa! Si di conforto per lei! Oh! Hai ragione! Forza, ragazzi! Scommetto che se collaboriamo riusciremo a trovare quella scatola! Qui! Qui no! Non la vedo neanch'io, Tilly! Teo? Teo, no! Stai bene, bello? Oh, ehi! E questa cos'è? Charlie! L'abbiamo trovata! Sì! Diventeremo dei supereroi! Oh! No! Questi non sono così male! Avete da principessa! Volevo dei costumi da supereroi! E' un vero disastro! Non saprei! Il mio mi fa saltare in alto! Ma non era questo il piano! Halloween è rovinato tefi... Oh! Charlie! Guarda! È incredibile! Trovalo! Wow! Halloween è salvo! E vai! E vai! Tè da! Ecco il mio progetto scolastico! Il tema era la famiglia e mi sono ispirata pensando ai bambini! Oh! Sono davvero fantastici! Sei proprio riuscita a catturare le loro espressioni! Ci avrei messo una vita a realizzarli! Già! Non vedo l'ora di mostrarle a tutti domani! Ora serve solo un posto sicuro perché possano asciugarsi! Ecco qua! Dovrebbero essere a sicuro da tutto qui sopra! Dovremmo festeggiare! Facciamo merenda! Sì! Che ha fatto il progetto? sono distrutte non posso più presentarle per il progetto di domani che cosa faccio ora? va tutto bene ci penseremo su perché non ti fermi un attimo e ti metti a riflettere sul progetto mentre io tengo d'occhio ai bambini prendi una boccata d'aria troverai sicuramente un modo grazie, è vero wow, che disastro povera Charlie ci deve pur essere un modo per ripararle vero, bambini? bambini, no! l'ultima cosa di cui Charlie ha bisogno è altro disordine oh, stai cercando di aiutare Lulu, hai un gran genio artistico forza, bambini iniziamo a creare ottimo lavoro, bambini vedo l'arte in ogni dove ehi, non ti mangiare l'arte però siete pronti? iniziamo a scolpire teo wow avete fatto un lavorone tutti quanti un copolavoro fantastico fantastico incredibile ok dovrò solamente dire al professore di arti che non ha un progetto pronto da consegnargli domani e... che succede? ta-da! wow bambini le avete fatti voi sono fantastiche guarda questa e quel purè di patate oh, wow e questo a cui sono io certo che sì l'adoro adesso sì che sembriamo una famiglia grazie, Everi grazie, bambini chi ci sta per una giornata alla spa? già lo sai guarda quanta roba abbiamo ciò che ci serve per coccolarci abbiamo lozioni calmanti per massaggi rilassanti tutte le tinte che vogliamo per dipingerci le unghie fiocchetti sette brillantini e persino creste abbiamo anche fighissimi adesivi per il viso diamo sfogo al nostro stile divertiamoci un po' oh 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 sei proprio cattiva guardo Tilly bene dite spa siete proprio belli fermi tutti wow Tilly quello sì che è un brufolo davvero enorme guardate anche Deo e Lulu hanno dei brufoli ce li abbiamo tutti fermi fermi diamoci una calmata ma l'abbiamo già fatta la varicella ci sono abbiamo macchie solo dove abbiamo messo gli adesivi oh no solo per uso artigianale non usare sulla pelle oddio e adesso veloci ragazzi seguitemi le macchie sembrano già migliorate immagino che la prossima volta dovremo iniziare con un po' più di ricerca anche Gordon ha delle macchie no 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 ehi bambini siamo tornate da scuola non è stato divertente ho avuto matematica, scienze e oh no 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 bambini cosa state facendo bambini? ho capito! siete solo curiosi sulla scuola, vero bambini? credo che si siano fatti un'idea sbagliata sulla scuola lo so che ne dici se mostrassimo loro come ci si prepara? così tra qualche anno sapranno subito cosa fare ottima idea, Avery! forza bambini, prepariamoci! prima di tutto bisogna lavarsi la faccia per iniziare la giornata adesso prendete la divisa che se elegante faccia una buona impressione ed esprimo chi siete provate voi wow voi sì che farete una buona impressione ora è importante fare una colazione sana prima di andare a scuola ok passiamo agli zainetti ecco qua bambini i vostri zainetti personalizzati vi servirà del cibo sano e gustoso per pranzare a me piacciono i panini i succhi in brick un frutto e un biscotto cosa c'è nelle vostre scatole? è la mia scarpa non dimenticatevi di prendere tutto l'occorrente vi serviranno libri, calcolatrici, matite ci siamo bambini adesso siete tutti pronti per la scuola è ora di andare guardate la scuolabus è qui prossima fermata la scuola eccoci bambini ci siamo credo che la scuola gli piacerà molto magari tra qualche annetto pronti per un picnic? oh no l'olù ha strappato per sbaglio il vestito di Ellie tutto bene gli incidenti capitano non preoccupatevi possiamo comprare alla principessa Ellie un nuovo vestito estivo cambio di programma bambini andiamo a comprare vestiti ma comprare i vestiti è davvero divertente sul serio lo so perché non facciamo un negozio di vestiti proprio qui in modo che i bambini possano vedere quanto è divertente che bella idea Bex facciamolo benvenuti alla baby boutique di Bex cosa volete comprare oggi? stiamo cercando nuovi vestiti per Ellie splendido qui abbiamo magliette top e giacche gonne e pantaloni sono laggiù gli accessori sono nell'angolo e i vestiti si trovano al centro sono qui se avete bisogno di aiuto grazie commesso forza bambini andiamo a fare shopping questa sì che è una bella maglietta cosa ne pensi Ellie? carina ottima scelta Lulu carino bella carino ok forse è arrivato il momento di provarli come va lì dentro principessa Ellie? alta moda troppo caldo per il clima estivo penso che la giacca sia un po' troppo lunga leggero e colorato perfetto per l'estate cosa c'è che non va Ellie? preferisce il tuo vecchio vestito vero? posso dargli un'occhiata? bambini volete provare dei vestiti nuovi? eleganti bello alla moda li prendiamo tutti grazie non c'è problema però credo che vi stiate dimenticando qualcosa hai sistemato il vestito di Ellie bisognava solo ricucirlo un po' visto? ecco ora è come nuovo beh credo che alla fine non ci sia stato bisogno di comprare nuovi vestiti e ora possiamo goderci il nostro picnic estivo sembra che il picnic sia finito gente come hai fatto a salire sul tavolo? no no quella torta al cioccolato è per la festa di compleanno di Avery e è arrivato il momento per voi bambini di fare un pisolino no Tilly non fare la monella non riuscirai a dormire se mangi quella torta zuccherata so che è difficile bambini ma se fate un buon pisolino potete mangiare la torta più tardi alla festa notte bambini buon pisolino? sogni d'oro con ciò a Sì, sì. Sì Che succede qui? È incredibile! Quindi questo lo sposta e poi da questa parte... Oh no! Attenzione! Ehi! Quella è la mia torta! Fermatevi subito! Fermatevi, bambini! Oh no! Beh, ha un sapore molto buono! Anche sulla tua faccia! Buon compleanno a te! Piccoli banditi, dovete venire con me! Adesso! Guardateli! Possiamo darvi un po' di queste tortine? Spiaciante, bambini! Se commettete un reato, dovete scontare la pena! Beatevi un po' di queste torste a mylli